28 genitori, anche mamme sole e 13 bambini accolti nel solo 2011, per un totale di 287 nuclei familiari con figlio in attesa che dal 1984 ad oggi, negli appartamenti e nelle comunità del progetto Una Nuova Vita, Una Casa per Accoglierla, hanno trovato un approdo sicuro. Un progetto realizzato dal Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli, con il contributo del Comune di Milano per sostenere e accogliere donne in gravidanza, neumamme nei primi mesi di vita del bambino, ma anche genitori in difficoltà economica per dare alla vita la possibilità di crescere. Abbiamo due grandi appartamenti dove accogliamo cinque donne da sole, prima con la loro pancia e poi con il loro bambino, e sette invece bilocali dove accogliamo la coppia. Per noi la presenza della coppia, quindi del padre, è fondamentale perché se la donna è il contenitore del bambino e quindi si cura dei bisogni del bambino, il padre si cura dei bisogni della mamma e del bambino insieme, quindi la sua presenza è assolutamente importante, irrinunciabile direi. Accanto al supporto psicologico e all'accompagnamento fornito dal Centro di Aiuto alla Vita alle mamme e ai papà accolti, restano fondamentali gli aiuti concreti per sostenere le nuove famiglie. Oltre all'ascolto, alla relazione d'aiuto, a tutte queste cose, serve proprio la possibilità di continuare a vivere, che vuol dire pagare un affitto di casa, comprare da mangiare e essere forniti di tutto ciò che serve al bambino. Per esempio, piccola cosa, però noi regaliamo i pannolini al bambino fino all'anno di vita.